Silvio Baldini sta facendo sognare il Pescara, la sua bacchetta magica ha riportato in città entusiasmo e voglia di andare allo stadio. Silvio Baldini, una persona speciale dentro e fuori dal campo. Racconti inediti, aneddoti e tanti aspetti della vita del tecnico sul centro, nella lunga intervista curata dal direttore Luca Telese e dai redattori del Quotidiano. Domani e dopodomani in edicola, ecco Silvio Baldini come non lo avete mai visto, dalle sue origini alla magia di Pescara, dal papà di Gigi Buffonne che lo ha ispirato come allenatore, al sogno dell'Under 21. Domani e dopodomani sul centro, due edizioni da non perdere. Quando andavo ai funghi con mia mamma, da bambino, ma andavo ai funghi a cinque anni, a sei anni, andavo ai funghi a vent'anni o a quindi. Mia mamma, che ha ora 90 anni, aveva i funghi, aveva i guai. Per lei la vecchiaia è stato di non andare più ai funghi. Cosa mi diceva la mattina? Vedi, il bosco, ma poi questa cosa qui non mi dà... Perché va a poter andare? No, è mica perché mia mamma ha 90 anni, no? E' così dai, essendo una donna anziana... Non può più andare, non può più fare... Il suo mondo era andare in quei boschi e io quando vado a trovarla, a volte, mi racconta sempre che esiste le fadine, che le fadine la notte giocano con gli ignomi e la mattina si trasformano in funghi e quindi quando tu vai trovi i funghi che per la notte sono fadine e quando trovi un fungo bello quella sarebbe la fadina, invece quegli altri sono gli ignomi, no? Perché mi viene la commozione? Perché sono io, perché c'è mia mamma, è la mia storia e allora io sono una persona, non sono un personaggio. Ho sempre giocato nei dilettanti, ho sempre giocato... E poi perché devi fare l'allenatore? Perché io anche lì ho il papà di Buffon che è il mio allenatore e mi dice, sai, lui aveva 40 anni, se io fossi tornato indietro, invece di continuare a giocare, che poi non ho fatto una gran carriera, avrei iniziato a 25, 26, 27 anni e avrei fatto l'allenatore. E io sento lui, dice così, dico, io siccome non sono un fenomeno voglio... Perché il papà di Buffon tra l'altro, ma l'ho già detto tante volte, c'era Gianluigi, giocava in casa, no? Io a volte mi allenavo la sera, insomma, poi tornavamo alle sera 9 e mezza, 10, tante volte mi dicevo fermati a mangiare e mangiavo a casa sua, no? Adriano Buffon, carissimo, carissima persona. Uno dei miei sogni sarebbe stato quello di allenare l'Under 21, no? E io l'avevo chiesto anche a Mancini una volta che si siamo trovati lì a Coverciano per il premio e l'ho sternata a lui e anche a altra gente lì di Coverciano e la risposta non è che non si sceglie uno, si sceglie uno perché hai dei difetti, perché non è che mi... credo che nel mio piccolo che sappia allenare, credo che lo sceglie, no? Non stare qui a parlare con voi, però no, non ti prendono perché non... l'Italia va rappresentata, va rappresentata da chi? Da chi? Da chi? Da chi? Siamo parlando... Un po' di bella presenza e un po' di signore... No, 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 ma... Cioè, voglio dire, ma ci vuole contenuti, dopo viene fuori che fagioli e tonali scommettono perché non sanno cosa fare, come occupare il tempo, fai due allenamenti al giorno. La cosa che, per esempio, mi fa uno... mi riempie d'orgoglio, vai al bar, prendi un caffè, trovi quelli che... Le turbini che ti fanno, oh, mister, Forza Pescara, la grande... pure io vengo allo stadio perché ci sei te... Cioè, queste sono parole... perché sanno che io, venendo, sapendo tutte le difficoltà, ho accettato con orgoglio perché sapevo che alle spalle c'è questa tifoseria, c'è questa storia perché... Poi la storia che l'hanno fatta gli altri allenatori, appunto, mi viene in mente Toma Rosatica, Leone, Zema... Il popolo abruzzese, il popolo di Pescara, che ha riempito l'Aviatico, ha seguito con gioia, con amore la sua squadra... E questa onda è sempre rimasta, anche quando il Pescara dovesse andare in terza categoria, questa onda rimane perché c'è i nonni, i padri, i figli, i nipoti e si tramandano questa magia, no? E io so che questi sono i posti dove puoi, con tutto rispetto della Feral Pissalò, per l'amore del cielo, e vai a allenare, ma non puoi dire che c'è la magia, no? Sennò ci prendiamo per il culo!